Il tema che ci guiderà oggi tra le parole della cultura è il cambiamento e per capire le sfumature e le sottigliezze dei cambiamenti della nostra lingua ci siamo rivolti al presidente dell'Accademia della Crusca, Claudio Marazzini. Il concetto di nuovo fa riflettere molto perché oggi c'è una tendenza ad attribuire al nuovo un valore positivo indipendentemente dal contenuto reale del nuovo. Qualche volta il nuovo però può essere anche assumere un significato negativo. Prendiamo la parola mutazione, è una parola antica nell'italiano, esisteva già nel primo scrittore di cose scientifiche, Restoro d'Arezzo nel 200 parla delle mutazioni di certe cose, degli astri, degli oggetti della natura. E oggi la parola mutazione invece non è più neutra, spaventa, perché per esempio viene associata all'idea della mutazione genetica. Gli oggetti geneticamente modificati sono nuovi ma ci spaventano, anzi sono forse una delle poche forme di novità che incute timore e terrore. Quindi dobbiamo ricordarci che le parole portano sempre con sé una carica emotiva più o meno visibile e immediatamente appena pronunciate creano come una cassa di risonanza e una reazione dell'utente a favore o contro.